leggevo poco fa su one football che secondo il telegraph già dalle semifinali di champions dovrebbero abolire la regola dei gol fuori casa praticamente si fa la somma semplice dei gol tra andata a ritorno tenuto conto del fatto che alcune partite sono state giocate in campo neutro che non c'è pubblico e quindi il fattore casalingo viene a cadere un po come aveva fatto ontario non solo agnelli ma soprattutto andrea agnelli qualche tempo fa la beffa o presunta tale starebbe nel fatto che una richiesta effettuata da andrea agnelli tempo fa e da altri comunque tempo fa si è stata accolta quando la juventus è stata espulsa e si è espulsa è stata esclusa dalla champions eliminata dalla champions in seguito ad un gol assegnato in più fuori casa dal porto e vabbè e vabbè ragazzi pure questa viene a dire pure questa se venisse accolta del resto le regole in corsa con la juve non sono mai state molto favorevoli no tipo l'extracomunitario in più da mandare in campo poco prima di juventus roma e casualmente l'extracomunitario segna una catà o altre situazioni insomma di cambiamenti in corso è la vita è la vita e bisogna prenderla come viene tanto più che guardando anche city dortmund o meglio dortmund city ieri ho avuto la conferma la conferma di quanto avevo detto ieri dopo aver assistito a paris engelman bayern monaco insomma stiamo parlando di una dimensione un po diversa e superiore rispetto a quella attuale della juve in generale del calcio delle squadre italiane poi è vero che la ci sono più possibilità economiche e che la crisi generale del calcio è stata forse assorbita meglio se tu parti da 10 e crolli a 5 ti trovi in una situazione comunque di vantaggio rispetto a chi parte da 6 e si ritrova a 3 no è evidente tutto è proporzionato e quindi si spiega così la possibilità di acquisire giocatori di un peso tecnico tattico fisico superiore diverso e quindi superiore e quindi si spiega così anche la differenza che c'è tra il rendimento di una juventus che arriva agli ottavi ed esce col porto è vero poteva andare avanti col porto ma probabilmente si sarebbe imbattuta in una delle squadre di cui stiamo parlando forse la più morbida poteva essere il celsi ma insomma sapete bene che poi tutto è molto aleatorio anche in champions molto dipende dagli episodi eccetera e qui sta la differenza insomma ecco perché ecco perché c'è ancora da crescere da parte del calcio delle squadre italiane c'è ancora da ritornare sui livelli in cui era arrivata la juventus per quanto riguarda il lavoro da fare in casa bianconera con quale portiere è perché adesso qua si entra si entra decisamente se non altro c'è stata un'accelerazione delle delle della situazione delle delle voci di tutto quanto sta ruotando attorno all'eventuale cambio di portiere in casa juventina c'è stata questa visita di raiola o raiola o raiola no raiola non l'abbiamo mai sentito a torino sono diversi giocatori che hanno la procura c'è anche bernardeschi c'è dell'ict della juve quindi sicuramente è stato fatto un discorso un po generalizzato però viene da pensare che le indiscrezioni secondo le quali le parti si sono confrontate anche su donna romma siano confermabili confermabili in fatti in notizie che non vuol dire che l'operazione sia stata portata a termine o venga sicuramente portata a termine ma che ci siano delle buone probabilità o delle probabilità voi sapete che sono sempre molto cauto nello sbilanciarmi molto molto cauto ci siano le probabilità che donna romma sia il nuovo portiere della juventus il prossimo anno anche perché diciamo un po tutto verrebbe a canossa nel senso che scesni che è stato pagato nel 2017 15 milioni è già stato ammortizzato come spesa e quindi un'eventuale vendita di scesni genererebbe una famosa plus valenza e siccome il calcio di oggi vive di plus valenze e non solo la juventus fa plus valenze ma sembra che le faccia solamente la juventus non solo la juventus fa plus valenze è evidente che tutto potrebbe portare secondo logica ad un cambiamento anche in porta va da sé che appunto scesni non accetterebbe mai di fare la riserva e donna romma bisognerebbe capire considerando che anche buffon lascerà la juventus bisognerebbe capire chi sarà eventualmente il che accetterà di fare il secondo a donna romma capire se nel pacchetto donna romma ci sia compreso anche il fratello di donna romma che come sapete era compreso diciamo così nella valutazione che al milan fa il terzo portiere e che alla juventus non so quale portiere potrebbe fare eventualmente ma questo già andando oltre sia chiaro sto parlando a ruota libera un discorso quasi da bar perché c'è già il terzo portiere che è pinsoglio che credo che verrà confermato però sono tutti i dettagli eventualmente ai quali lavoreranno le parti se si arriverà a questa definizione di situazione ricordo che donna romma verrebbe via a costo zero a costo zero la richiesta di soldi di raiola dal momento in cui noi non disponiamo di una richiesta ufficiale e raiola non ha mai parlato di cifre ci fidiamo delle discrizioni si aggirebbe sui 12 milioni netti l'anno che mi sembrano onestamente un po tanti specie se si considera la stessa eventuale pretesa di bala sempre a seconda indiscrezioni troppo alta per le casse bianconere perché poi è chiaro che si creano delle situazioni antipatiche dopo no sia agli occhi del tifoso agli occhi degli stessi protagonisti se veramente la juventus dovesse acquisire le prestazioni perché parlo in contratese linguaggio formale dovesse acquisire le prestazioni di donna rumma da qui ai prossimi cinque anni alla cifra di 12 milioni netti l'anno corrispettivo di 12 milioni netti l'anno è chiaro che di bala avrebbe tutta la la comprensione se si dovesse un po incazzare no è normale io credo che poi ogni società debba e tenga conto anche di quelle che possono essere le ripercussioni che possono esserci su l'acquisto di un di un nuovo giocatore nei confronti di coloro che già ci sono e che magari sono proprio in discussione per a un aumento dell'ingaggio vabbè comunque stiamo parlando di questioni di lana caprina per il momento perlomeno per quando ci riguarda perché siamo a metà aprile e se a metà aprile una società non ha già ben chiare le strategie di mercato allora non è una società e quindi voglio pensare che la juventus abbia ben chiare le strategie di mercato per la prossima stagione e stia cercando solo di capire se queste strategie di mercato che riguardano la porta che riguardano il centrocampo e che possono riguardare che l'attacco siano diciamo così traducibili in fatti concreti sulla base della disponibilità finanziare che in questo momento è molto molto e dico ancora molto carente ok poi sapete meglio di me forse alcuni non lo sanno che comunque quando si sente parlare di cifre bisogna spalmarle su più anni di rateizzazione e quindi su più bilanci sulle quali farle figurare legalmente sto parlando di legalità ok quindi non è detto che se tu acquisisci un giocatore a 40 milioni come potrebbe essere locatelli tu tiri fuori 40 milioni no ok lo paghi a rate magari 3 rate 4 rate da 10 milioni luna e a bilancio ci va l'uscita di questi 10 milioni lo ammortizzi in più annualità ok adesso io non sono un tecnico di queste cose anche perché poi appena comincio a ragionare sui numeri il mio cervello fa così vale tira giù la sarà cinesca perché non c'ha voglia sempre è stato così fin da quando andavo a scuola elettrocefalogramma piatto a un certo punto si rifiuta di andare avanti e quindi mi fermo qua volevo solo farvi capire il concetto ok ah si gioca juventus atalanta juventus domenica perché io sto cadendo da un po' di giorni in questo tranello qua che riserva a sta partita sempre poco spazio poco spazio mi aspetto che la giochi di bala dall'inizio guardate ve la butto lì mi aspetto che la giochi di bala dall'inizio perché perché ci saranno tre partite in una settimana a seguire ci sarà anche la partita col parma a metà settimana e lì potrebbe anche riposare cristiano ronaldo ma mi aspetto che di bala possa aumentare questo suo minutaggio dall'inizio perché ha giocato 21 minuti contro il napoli 22 minuti contro il genoa e siccome più l'ho detto ogni volta gli darò dei minuti in più se proseguo con questa questo trend di un minuto per volta di bala la titolare ci gioca attorno alla decima giornata dalla prossima stagione sempre che sempre che sia ancora qua qua in italia intendo dire perché se va via non resta in italia di sicuro non vi inganni nemmeno questa foto c'è sul suo profilo instagram la maglia numero 10 di spalle moltina interpretata con il fatto che è più vicino alla permanenza della juventus ma la lettura potrebbe essere anche contraria la solita quella che vi ho dato anche dell'altro giorno come dire juventus io ci sono se poi questa maglia tra l'altro usa quella rosa e questo numero e questa fascia e questo numero dovessero sfilarsi dal mio corpo la colpa non è mia quindi attenzione a quando si interpreta determinate fotografie o determinati messaggi o presunti tali perché magari vuole farsi i cazzi suoi pubblicare questa foto e basta perché non ne stiamo parlando così va bene ragazzi io sto parlando anche fin troppo iscrivetevi al canale mi raccomando diffondete iscrivetevi anche a balzerini junior il canale di mio figlio ci vediamo alla prossima a ridosso ormai di questa partita che non è decisiva ma è importante ma non è decisiva ma è importante ma non è decisiva basta ciao